Questo accordo è stato definito anche come ideale per essere esportato nel resto d'Italia, quali sono le differenze? Le differenze che non ci sono, nel senso che negli altri porti le relesse di sito non hanno la garanzia di sostegno economico che viene dato a Trieste e a Monfalcone, dove l'autorità di sistema supporta dal punto di vista economico-finanziario queste figure, dando da una parte chiaramente un distacco all'interno della nostra società e lì a questo punto c'è il sostegno economico ma soprattutto tutta una serie anche di servizi che uno può ritenere banali, ma che mettono a disposizione di queste persone la possibilità vera di poter effettuare il loro lavoro. Questa cosa, come è stato detto prima, negli altri porti non avviene con la concretezza e la compiutezza che abbiamo dato a Trieste e a Monfalcone. Adesso quanto sarà la durata del mandato? Come si procederà con le elezioni? Il regolamento da tre anni di mandato agli eletti, l'elezione avviene tra l'incontro di tutti i RLS delle aziende operanti nel porto, ciclicamente questa sarebbe già la terza elezione di RLS di sito. Ovviamente oggi è una giornata molto positiva, quando si lavora per valorizzare la portualità ma soprattutto la sicurezza sul lavoro in ambienti non semplici, questo è sicuramente un passo in avanti. Lo è ancora di più perché viene siglato ovviamente in un ambiente, in un clima di grande condivisione e devo dire che questa capacità di fare sistema ormai è diventato un cliché che credo sia veramente vincente.